Non c'è schifo, te lo sto dicendo, apri e guarda Aspetta Ollo trollini, qua Pepios Benvenuti finalmente in questo video L'avete tipo aspettato per un bel po' Però finalmente ce l'ho fatta Quindi ora, a parte ragazze Se non lasciate il like a questo video Almeno sono buono, ve ne chiedo 8000 Li dovete superare Sto andando appunto a cambiare colore di cabelli Vedrete come sarò Infatti sotto nei commenti mi dovete scrivere Se sto bene o male, secondo voi Secondo me mi saranno malissimo Però comunque commentate poi sotto nei commenti Vi faccio vedere un po' tutto il procedimento E poi dopo, a fine video Vi farò vedere ovviamente i capelli come staranno Vedremo insieme E soprattutto vedremo la reaction Di tante persone che vedranno i miei capelli Perché non lo so come la prenderanno Comunque sono di parola Le sfide vanno mantenute, le avete vinte E quindi Pepios è costrato a fare sta cosa E mi raccomando Ora però lasciate il like e andiamo a vedere un po' la situazione Aiuto, aiuto Raga appena iniziato Questo è solo il decolorante Non sono ancora diventati biondi Ci vorrà un po' di tempo Per problemi Raga è sempre solo il decolorante Non hanno ancora fatto tinta Non è niente Arancioni sono ancora Raga questo è il secondo colore Praticamente Devo aspettare altri 40 minuti Fase 3 Sono più biondi ancora Però ce ne vorrà Cioè secondo me Graziana Mi caccia Non mi vorrà più neanche mamma Cioè E dobbiamo ancora finire Allora raga Io mo ve li faccio vedere Però non mi stanno per niente bene Io ve lo dico Ve lo sto dicendo Quindi mettetevi l'animo in pace Ora sono ancora un po' giallini Perché praticamente i capelli Mi si stavano bruciando Quindi la settimana prossima Devo andare a dargli una ritoccata Però cioè Mi rendete conto Di che cosa ho combinato? Mi rendete conto? Io non ancora Veramente Non so perché l'ho fatto Non mi rendo ancora conto Di sta cosa Cioè Io penso che Appena torna mamma Mi lincia E appena vedo Graziana Mi lascia Cioè ve lo dico già io Quindi Aiutatemi ragazzi Vi prego Non scrivete Nei commenti che faccio schifo Scrivete No baby sei bellissimo Mentite Mentite Fatelo per me Mentite Ma Chiudi gli occhi Ma chiudi gli occhi Capito? Se sbirci Ok Allora Devo fare delle premesse Vieni qua Non aprire Lo so che hai aperto Non vedo Ok Chiudi gli occhi Da 1 a 10 Faccio schifo 11 Madonna santa Quindi già questo vale tutto No ma ti prego Senti io ormai l'ho fatta la gretinata Sto peggio di una persona che sta peggio Dai veramente? Chi te l'ha detto? Mi son visto da sola e faccio schifo Ragazzi salvatevi la sua faccia Perché non la vedrete mai più 1 2 3 No ma voglio vedere Mamma piangi Te lo dico già io Già fa uno Faccio schifo Te lo sto dicendo Apri e guarda Guarda la faccia Sembra un rino d'angelo Abbassa Io te l'ho detto Ta ta Ormai è fatta Ormai è fatta Non ci credo E mamma abbiamo avuto La positività Che colore sono bianchi L'unica cosa che ti posso dire L'unica cosa che ti posso dire Devo tornare la settimana prossima Perché non mi ripoteva ancora decolorare Perché mi si stavano bruciando i capelli E di che colore devo diventare? Più grigi C'è ancora un po' di giallo Mia madre Ha giudicato L'abbiamo persa per sempre La so E' dura Io sono sconvolta Pure io sono sconvolta Ormai Ciò che è fatto È fatto Fatto Io non ci posso credere Che l'hai fatto davvero Lo so E ora tocca a Graziana Perché non abbiamo finito qua Sarà peggio Vedatevi Sta arrivando Graziana Alla casa dei video Cioè Mi lascia ragazzi Affidate No vabbè Mi lascia no Però Resterà malissimo Anche perché ragazzi Cioè già io Quando mi guardo tipo allo specchio Tipo lì Che ora c'è il flash Io faccio Chi sei Ciao Che spavento Quindi Vedremo la sua reaction in diretta Sia voi Che io E sto molto più in anzi di voi Fidatevi di me Gra Chiudi gli occhi Graziana Non guardare fin quando Non te lo dico io Sì Non guardare che c'è una persona Ok Pensare che siamo pazzi Non è un problema Girati e chiudi Aspetta Fermo Io ho un problema Cioè Sto con gli occhiali Non fai niente Facciamo schifo Entrambi Allora Diciamo che mentre Mi facevano i capelli C'è stato un problema Perché Mi sono un pochino Quasi bruciato Quindi Non abbiamo potuto fare Un'altra passata E quindi Non è proprio Biondo platino È un po' Giallino platino Quindi per come ho fatto con mamma Vediamo la reaction di Graziana Almeno tre Che ce la faccio? Ma te lo sto già dicendo io Faccio schifo Tre Due Uno Vai Non ce l'ho facciuto Non ce l'ho facciuto Non ce l'ho facciuto Attento È brutto Quindi Come fa la pillola Tre Due Uno Paura Uno Due Non cagare Se vuoi Mi puoi guardare Gritamente Sulla tavolata del cesso Di ti è più forte Uno Due Attenta Aiuto Allora Aspetta No Graziana Allora No Posso essere sincera? Sì Non stai male Aspetta Dillo qua Madonna Lo so Non stai male Ti posso dire un'accusa? Ci si abitua Io ovviamente Ne sto abituando No No Vado a dire una cosa Non stai male Sembri Tipo Quei cantanti giapponesi Sì Lo dicono tutto io Cioè Tu ma mi stai guardando Sono strano Perché le mie sopracciglia Sono troppo scure Per questo colore E poi questo Non è proprio Blondo Pratino È giallo ancora Vedi? No no È bianco Dai No non è bianco Ci sono ancora Le sfumature gialle Se guardi bene Mio Dio È un folle Però Ho il cappello Eh stai bene così Così Uscirò sempre così Da ora in poi Il pepio si sarà Tutto uno col cappello Mi lascerai Ora Devo rispondere sinceramente Raga Non mi dire così Devo rispondere sinceramente Sì Siamo sicuri Sì Sei sempre bello Tu Ma questa è un'esagerazione Raga Allora Voi nei commenti Ci dovete far sapere Che cosa ne pensate Di tutto questo Non lo so ragazzi Mi dovete scrivere Prima di tutto Se vi piacciono O no A te non ho capito Ancora se vi piacciono Mi piacciono Secondo voi mente No Mi piacciono Su serio Beh però Sono piaciuti di più Di quanto siano piaciuti A mamma Meno male Quindi raga Mi raccomando Lasciate i like Ragazzi Dovete arrivare almeno 8000 like Perché io ho fatto Questa stronzata Per voi Quindi dovete arrivare A 8000 like 10.000 Non sarebbe male Però è un 8000 Va bene Va bene E poi Mi raccomando Perché martedì C'era un nuovo video Al mare Quindi ragazzi Ci vediamo Un nuovissimo video Martedì E spero che Tutto questo Che ho fatto per voi Vi sia Piaciuto Ciao Ciao Raga comunque faccio Quest'ultima clip Alla fine di tutto Perché Ora sono andato al mare Nei capelli Sono diversi Cioè Me li vedo Mi ci trovo meglio Diciamo così Quindi Piano piano Mi ci sto abituando Poi vedrete un altro video Che uscirà Martedì sul canale Ovviamente sempre Con questi capelli Sto al mare Quindi vedrete un po' Che cosa ho combinato Vi volevo Ringraziare Per i 100.000 Perché comunque Non ve l'ho detto Nel video Ma è stato un traguardo Pazzesco Pazzesco E niente Magari 200.000 Me li feccio a rosa Ciao